Dopo la prima edizione di domenica scorsa dedicata alla terra peligna, arriva la seconda giornata del cammino, l'azione promozionale che punta a far conoscere a pellegrini e camminatori il patrimonio religioso-culturale regionale e contribuire allo sviluppo e promozione del cammino dell'Apostolo Tommaso, coordinato dall'Associazione Temporanea di Scopo Culto e Cultura in Abruzzo. La tappa di domenica 26 aprile sarà dedicata al tratto tra Guardia Grele, Orsogna e Lanciano, organizzata insieme a comuni, associazioni di volontariato, organizzazioni del territorio che accoglieranno i visitatori per far conoscere le bellezze del territorio ma anche i prodotti tipici, la valenza del cammino. Una giornata a piedi immersi in arte, cultura e natura. L'appuntamento alle 8 e 30 in piazza Garibaldi a Guardia Grele da cui si partirà lungo il tratto del cammino che lambisce la cattedrale e il museo del Duomo, entrambi visitabili durante la giornata. La villa comunale, il convento dei Cappuccini e da lì in direzione San Leonardo si arriverà al santuario della Madonna della Libera di Filetto e al convento della Santissima annunziata di Orsogna. Ascoltiamo l'assessore comunale di Guardia Grele, Floriano Iezzi. Noi confidiamo con questa iniziativa di sensibilizzare il maggior numero possibile di persone anche se ci rendiamo conto che non tutti sono in grado di percorrere i 25 chilometri del tratto ma è sufficiente anche una partecipazione simbolica e soprattutto apprendere e conoscere tutte le attività che sono connesse al progetto e alle attività di culto e cultura in Abruzzo. La giornata si concluderà con un momento di convivialità nella casa di conversazione a Lanciano dove è stato presentato l'evento.